Ciao ragazzi, in questo video vedremo come montare un cinturone da tiro dinamico toccando con mano tanti piccoli aspetti e accorgimenti che sono sicuro possono tornare utili a molti di noi. Iniziamo! Bene ragazzi, bentrovati! Come detto nell'introduzione oggi voglio farvi vedere come deve essere montato un cinturone da tiro dinamico e unitamente a questo avrete visto negli scorsi giorni su Instagram, sul mio profilo Instagram che mi sono adoperato nel montare un nuovo cinturone, infatti mi è arrivata tutta l'attrezzatura per comporre questo nuovo cinturone della Double Alpha che prevede una nuova fondina, un nuovo tipo di fondina che è appena stata presentata in questa fase e un cinturone che è quello classico ultra rigido con il set di portacaricatori. Bene, in questo video volevo presentarvi la fondina e farvi vedere un po' l'attrezzatura, quali sono le peculiarità di questo marchio, di questi elementi, di questi oggetti, ma volevo anche toccare con mano e rispondere ad alcune delle vostre domande relative alla regolazione del cinturone, no? Perché il portacaricatore va inclinato in avanti piuttosto che indietro e perché la fondina va messa così e non così, insomma tante cosine che spesso risultano essere richieste che mi vengono fatte e alle quali faccio fatica a rispondere. Quindi approfitto di questo video per fare un po' tutto quanto. Ok ragazzi, cominciamo con ordine. Partiamo dal cinturone, il cinturone non è una novità, è un cinturone nuovo perché mi è appena arrivato, ma non è una novità nel senso che è un cinturone extra rigido, ormai è lo standard attuale, ovvero sono cinturoni molto rigidi, hanno dentro una lastra di acciaio, adesso non so il materiale nel dettaglio, ma insomma hanno una flessibilità molto ridotta, quindi sono molto rigidi e questo permette di avere tutti i componenti molto fissi, molto stabili. I cinturoni quelli morbidi di una volta, quindi quelli che flettevano molto e quindi muovevano molto l'attrezzatura, ormai soprattutto nelle discipline di tiro action sono andati completamente in disuso, quindi questa è la nuova era. Passiamo alla fondina, la fondina è la vera novità, la fondina è una close body holster, cioè una fondina a corpo chiuso, non ho ancora spiegato, non spiegherò in questo video la differenza rispetto alle fondine scheletrate, quale è meglio, quale no, lo affronteremo magari in una fase di test e di recensione della fondina, per oggi mi limito solo a spiegarvi quali sono le caratteristiche che rendono questa fondina una novità. Il sistema di ritenzione è la vera novità per una fondina a guscio, una fondina chiusa, unitamente al sistema di staffaggio e regolazione, mi spiego meglio. Questa è una fondina chiusa appunto dove va inserita la pistola e qui abbiamo la possibilità di andare a regolare la ritenzione che viene fatta sul ponticello, in questo, vediamo se riesco a farvi vedere, in questo punto. Qui abbiamo queste due sfare che vanno a scorrere sul ponticello, nel momento in cui il ponticello dell'arma passa fra queste due sfare, queste si aprono per consentire, però do il contrario, così, per consentire il passaggio appunto del ponticello e la ritenzione viene generata aumentando o diminuendo la forza con cui queste due sfare vanno ad aprire e quindi a rilasciare il ponticello. Questa è una novità appunto su una fondina a guscio, ma la cosa che a me piace molto è il sistema di regolazione della staffa, ovvero qui abbiamo una staffa molto rigida che non soffre di nessun tipo di flessione, sulla quale andiamo ad effettuare due tipi di regolazione principalmente. La regolazione in altezza, ovvero allentando queste due viti avremo la possibilità di scorrere su queste due barre, andremo a scorrere il corpo della fondina, a far scorrere il corpo della fondina, quindi a bloccarlo nella posizione che ci interessa e a regolare semplicemente l'altezza alla quale proporre la fondina. L'altra regolazione che invece è quella fondamentale è questa regolazione, cioè abbiamo questa vite che va a sganciare, un attimo che la libero così vi faccio vedere, ok, una volta liberata ci dà la possibilità di andare a effettuare la regolazione di grado in grado, quindi non abbiamo delle posizioni preselezionate, qui possiamo regolarla veramente come vogliamo, sia in rotazione che in escursione e in inclinazione, quindi abbiamo la possibilità di mettere l'arma super personalizzata, questa cosa è la cosa che preferisco in assoluto. Ora, voglio spiegarvi un attimo il discorso della regolazione della fondina, perché spesso, anzi sempre, soprattutto per chi inizia, ma non solo, la domanda è perché tieni la pistola in avanti, perché invece gli altri la tengono indietro o dritta, c'è un motivo, certo che c'è un motivo, il problema è che il 90% delle volte viene detto la pistola va messa così oppure così, punto, non viene data nessuna spiegazione, non è così, c'è una spiegazione tecnica e ragionevole, per cui la scelta di questa piuttosto che questa o questa posizione deve avere un senso, bene, ora vi dico, la regolazione che adotto io è questo tipo di regolazione, quindi quella pistola leggermente spostata in avanti e in asse con il corpo della fondina. Ora per gli abbonati farò un approfondimento che troverete nella sezione community, dove vi spiegherò il motivo per cui è necessario per me adottare questo tipo di soluzione e quando invece va adottata un altro tipo di soluzione. Ok, torniamo a noi, ho perso un attimo il filo del discorso, abbiamo parlato nel video riservato gli abbonati, abbiamo giustificato il perché e il per come la regolazione della fondina debba essere fatta in una maniera piuttosto che in un'altra, idem per questo tipo di regolazione. Prima abbiamo visto quali sono i punti forti di questa nuova fondina, quindi questa ritenzione e questa staffa con questa regolazione. Ora la recensiremo nelle prossime settimane a seguito di un po' di test e vi confermerò o meno quelle che sono state le impressioni che ho avuto in questa fase di prova di montaggio e unitamente magari ad altre cose che possono tornare utili. Una cosa che mi ero dimenticato di dire è la regolazione, cioè dove vanno fissate la fondina e il primo caricatore su un cinturone. Ora, in questa fase li ho messi un po' a casaccio, dovrò andare a sistemarli, tant'è che vedete questa è ancora l'asca per poterla spostare dove sarà il punto giusto. Qual è il punto giusto? Il punto giusto è dietro le creste liache. Nel contesto sportivo, soprattutto per quel che riguarda l'IPSC, quindi il tiro dinamico sportivo, il limite è dettato dalla creste liaca, quindi dovremo avere il cinturone, il primo caricatore e la punta dell'arma, la parte più esterna dell'arma, della parte anteriore, che non deve superare la creste liaca. Tutte cose che comunque per chi si avvicina a questo tipo di discipline troverà nei regolamenti sportivi e nei corsi che farà per iniziare questi sport. Ora arriviamo ai portacaricatori, che ho visto, ho considerato solo adesso in maniera un po' più approfondita nella fase di montaggio, eccetera. Ero sempre stato abbastanza, non posso dire scettico, però ero sempre stato un po' distante da questa soluzione che propone Double Alpha. devo dire invece che mi sembrava un attimino un po' troppo giocarellone, invece devo dire che, cavolo, è fatto veramente bene, ora vi spiego perché. Allora, il primo caricatore l'unica differenza che ha è quella di avere un magnete sulla facciata anteriore, un magnete che ci permette di andare ad attaccare uno o più caricatori in determinate condizioni che poi analizzeremo, che comunque abbiamo spiegato anche queste in diverse occasioni, magari le riprenderemo in mano. Tolta questa, diciamo, differenza rispetto agli altri, ogni caricatore è uguale all'altro. Il bello di questi caricatori è che sono utilizzabili sia per destri che per mancini, sarà solamente necessario smontare il blocchetto e andare a montarlo su questo foro, quindi dalla parte opposta e quindi diventano completamente ambidestri o ambisinistri, insomma utilizzabili da entrambi i tipi di tiratori. Il portacaricatore è fatto in maniera molto semplice. Abbiamo queste due viti che vanno a fare ritenzione al blocchetto che va inserito sul cinturone e su questo blocchetto abbiamo la possibilità di andare a montare la tasca caricatore, no? Questa tasca caricatore, un attimo che prendo una chiave e vi faccio vedere, ha la possibilità di essere regolata allentando la vite che troviamo, vediamo, no non è questa, è questa, ok. Da questo foro provo a fare tutto guardando la telecamera, quindi sarà un disastro. Da questo foro, ok, qui in mezzo troviamo una brugola, adesso la sto tirando, ok. Allentata questa brugola abbiamo la possibilità di regolare il caricatore di 6 gradi in 6 gradi. Anche qui, qual è la posizione corretta? Si trova qualche tiratore che ce l'ha nella posizione verticale, altri tiratori ce l'hanno nella posizione, insomma, sbilanciato verso in avanti, altri invece come me all'indietro. Qual è la posizione corretta? La posizione corretta è questa o al massimo questa, ma sicuramente non questa. Abbiamo già spiegato in diverse occasioni, fra le righe, il motivo per cui queste sono le posizioni corrette e il motivo per cui questa non lo è, perché a differenza di quello che si sente in giro, cioè non è un va così perché di sì o va così perché te lo dico io, punto. No, c'è un motivo anche qui. Cerchiamo di capirlo meglio. Lo trovate ben spiegato nei videocorsi, ma per gli abbonati farò un piccolo excursus. Abbiamo appena affrontato nel video riservato agli abbonati, quindi nella pillola di approfondimento, il motivo per cui i portacaricatori vanno regolati in questa posizione, quindi leggermente inclinati indietro o al massimo in verticale, ma non inclinati in avanti. C'è un motivo tecnico che è stato spiegato, che trovate ancora meglio spiegato nei videocorsi e questo è fondamentale perché, ripeto, l'ho già accennato prima, però spesso viene detto vanno messi così o cosa, punto, perché lo faccio io o perché me l'ha detto tizio. No, bisogna capire il motivo per cui devono essere messi così, soprattutto perché sapendo il motivo riuscite a capire quando un'informazione è corretta o quando non lo è. Detto questo, per chi volesse, abbiamo accennato più volte il discorso videocorsi, li trovate sul sito www.pfshooting.com. Torniamo a noi. Mi sono regolato i portacaricatori nella posizione corretta, quindi leggermente inclinati indietro e quindi li ho riportati, diciamo, ho ridotto la distanza tra loro in maniera tale da poter occupare il meno posto possibile ed averli pronti il più vicino possibile, quindi nella maniera più efficace possibile. Più aumentiamo la distanza tra uno e l'altro, più li troveremo distanti, quindi fino ad arrivare a questa posizione qua dietro, che capite bene, sarà molto complicata da gestire rispetto a una posizione più avanzata. Ora, arriviamo alle ultime due cose importanti di questi portacaricatori, quindi la gestione della ritenzione del caricatore, giusto per farvi vedere, il caricatore non esce, è ritenuto in maniera molto efficace e questo è dato da questa ghiera di regolazione unitamente agli spessori che vanno all'interno del portacaricatore che sono forniti insieme al portacaricatore stesso. Nello specifico, insieme al portacaricatore troviamo questi tre spessori, due sono gli spessori diciamo, posteriori e uno invece è lo spessore laterale. A cosa servono? Dunque, il portacaricatore arriva montato per i caricatori della 1911 bifilari, quindi per capirci quelli per il calibro 40, quelli belli grossi, spessi. Vedete che in questo caso non abbiamo nessuna ritenzione, anzi c'è tantissimo gioco, c'è troppo posto. Dobbiamo arrivare ad ottenere questo risultato, quindi zero gioco e ritenzione efficace. Lo otteniamo andando a sostituire lo spessore, questo spessore laterale già montato con quello fornito a parte. Basterà andare ad allentare la molla che abbiamo fatto vedere prima per effettuare la regolazione, andiamo ad allentarla completamente, verrà fuori questo spessore, lo sostituiamo e rimontiamo il portacaricatore. Anzi, guardate, dato che devo comunque effettuare questo cambio di componenti, lo facciamo assieme così vi faccio vedere. Quindi vado ad allentare la molla, scusate la vite che abbiamo visto prima che è quella che ci regola anche l'inclinazione. Una volta che abbiamo completamente tolto questa vite, uscirà questo spessore e la vite stessa. Quindi prendiamo un kit e andiamo a sostituire questo spessore più gli spessori dopo. Quindi prenderemo questo spessore, vedete che ha una dimensione diversa, uno spessore diverso, non so se si riesce a vedere dal video, comunque prendiamo questo spessore, lo andiamo a posizionare all'interno del portacaricatore, fra l'altro spero di riuscire a mostrarvelo. Vedete che qui abbiamo questo tondo, insomma questo accessorio dentellato che è quello che va a fare la ritenzione, cioè a bloccare il caricatore nella posizione corretta sul supporto. Una volta che abbiamo fissato la vite, lui sarà in una posizione vincolata. Quindi dicevamo vado a inserire questo nuovo spessore assieme alla vite, ok, e vado a riassemblarlo sul supporto già fissato sulle cinture. Poco prima di arrivare alla fine, diciamo, dell'inserimento vado a controllare l'inclinazione per poi andare a fissare. ok. Mentre per quanto riguarda la ritenzione posteriore, l'operazione è molto semplice, basterà premere verso la parte posteriore e sfilare questo accessorio, questo spessore, nel quale è inserita una lamella, che è quella che poi va a fare appunto la ritenzione. Quindi fa un po' da molla, no? Noi andiamo a scegliere quello che più ci interessa, in questo caso io metterò quello con lo spessore maggiore. Andiamo a posizionare nuovamente la lamella. Questa operazione deve essere fatta con la regolazione, questa ghiera di regolazione posta nel limite, diciamo, limite massimo, il limite di scusate, il limite di ritenzione minima. Quindi deve essere imbattuta la ghiera. Da qui andiamo a reinserire il blocchetto all'interno del, scusate, andiamo a reinserire il blocchetto, premiamo in giù, il blocchetto entra e a questo punto abbiamo la regolazione anche della ritenzione. Andando poi ad agire sulla ghiera andiamo a spingere più o meno il caricatore e quindi a aumentare o diminuire questa ritenzione. Questa è una cosa fondamentale, il caricatore va ritenuto bene perché quando il caricatore è pieno e ha un peso, nel momento in cui ci alziamo da una posizione non convenzionale, ad esempio del letto o di una posizione sdraiata, oppure arriviamo a sdraiarci, oppure dobbiamo fare una grande corsa magari con dei salti, qui il caricatore si sfilerà e ci ritroveremo in una condizione a cui non possiamo trovare rimedi, insomma una volta che rimaniamo scarichi perché i caricatori li abbiamo persi per strada siamo finiti. Altra cosa importante è nella gestione dei cambi, cioè se non ho ritenzione può essere che sfilando un caricatore, prendendo dentro l'altro si tolga anche l'altro, mentre se il caricatore è ben ritenuto rimarrà in quella posizione perché per sfilarlo devo proprio prenderlo in mano. Questa è una cosa importante, quindi abbiamo visto anche come andare a effettuare il cambio, diciamo, dei componenti per andare a settare il portacaricatore sul caricatore corretto e quindi quanto e come regolare la ritenzione tramite questa ghiera. Una cosa che volevo farvi vedere, ma a giustificazione del fatto che i caricatori vanno posti in questa posizione, quindi leggermente inclinata verso indietro, prima mi sono dimenticato, era questa immagine, cioè vedete che il disegno del portacaricatore è fatto proprio considerando questa posizione, quindi oltre alle spiegazioni tecniche che ho dato prima nella pillola dedicata agli abbonati, a riprova di questo c'è anche il come sono fatti, cioè se sono stati fatti così un motivo ci sarà. Ok ragazzi siamo arrivati alla fine, quindi il cinturone è montato, adesso nelle prossime settimane mi occuperò di provarlo per bene per darvi un feedback, una recensione per farvi capire se ha senso o no questo tipo di fondina e come mi trovo con questi nuovi portacaricatori che non avevo mai utilizzato fino ad ora, quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che trovate questi video pillola che faremo da adesso in poi con delle spiegazioni tecniche, delle argomentazioni in più riservati agli abbonati del canale che ci sostengono e che ringrazio ancora una volta, trovate eventuali altre informazioni eccetera eccetera, soprattutto riguardo ai videocorsi ma non solo sul sito www.pfshooting.com, ora vi saluto perché non riesco neanche più a parlare, ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi! Ciao! Ciao!